Pace e bene a tutti voi, buonasera e benvenuti alla presentazione di questo volume, di questa monografia della dottoressa Giustina Aceto. Voglio salutare davvero ciascuno di voi e dire grazie personalmente per la vostra presenza. Voglio salutare anche i presidenti delle varie associazioni che hanno avuto l'attenzione e la premura di essere qui questa sera. Saluto Don Giampiero Fiore, quale delegato di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Onolè, il quale per un impegno sopraggiunto all'ultimo momento non potrà essere presente alla presentazione di questo volume della dottoressa Giustina Aceto e che riguarda il nostro santo Sant'Angelo d'Acri. Don Giampiero è delegato in quanto vicario aggiunto, sapete Don Sergio che è vicario foranio, è fuori e quindi Don Giampiero è colui che sostituisce Don Sergio in questo momento. Quindi proprio per questo è delegato Don Giampiero. Saluto le nostre sorelle presenti e saluto l'autrice del libro la dottoressa Giustina Aceto che con molto entusiasmo, con molta ansia anche questa sera, per la prima volta presenta un libro inedito scritto di tutto suo pugno, se non erro completamente. Aspettavamo anche il sindaco di Acri e il sindaco di Bisignano che non sono presenti e che non hanno fatto avere notizia. Allora noi direttamente procediamo con la presentazione dell'autrice. La dottoressa mi ha chiesto di non presentare nessun tipo di curricula suo, ci teneva a rimanere quasi una di noi. Soltanto diciamo che Giustina, mi permetto di dirti così, è da sempre vicino a noi frati Capuccini di Calabria anche perché nel 2002, nel 2014 ha realizzato la prima classificazione dei decreti dei santuari calabresi ed ha censito la nostra basilica quale santuario diocesano come risulta dal decreto del primo novembre 1999 dell'arcivescovo Monsignor Giuseppe Agostino sul riordino dei santuari dell'arciviocesi di Cosenza Bisignano. Il volume che molti di voi hanno già tra le mani è stato commissionato da noi frati nel 2014. Qual era l'intenzione originaria? era quella di scoprire, di portare alla luce altro materiale che riguardasse il nostro Angelo d'Acri. Materiale che è diffuso, abbiamo scoperto, abbiamo capito in tutta Italia, quindi può darsi che ancora ci sia del materiale che noi non conosciamo. Certamente per le scoperte che abbiamo fatto ci siamo resi conto che era possibile effettuare una pubblicazione e questo compito noi l'abbiamo dato alla dottoressa Giustina Aceto. La ricerca grazie alla sua volontà e alla sua tenacia ha riscontrato del materiale inedito. Io vi dico soltanto tre di questi materiali inediti che sono quelli più importanti a mio avviso. Anzitutto abbiamo il miracolo che Sant'Angelo ha compiuto a Sant'Andrea di Conza in provincia di Avellino a favore di Pasquale Bozzone e questo miracolo è certificato da un atto notarile del 26 dicembre 1796. Poi è stato ritrovato il quadro utilizzato per la beatificazione di Angelo d'Acri il 18 dicembre 1825. Questo quadro è stato realizzato da un pittore siciliano, Francesco Manno, il quale per la beatificazione in realtà ha anche composto quattro ovali che sono stati esposti nella chiesa dei frati minori Capuccini in via Veneto a Roma dove il 17, 18 e 19 giugno del 1826 è stato celebrato in modo solenne l'evento della beatificazione di Angelo d'Acri. Si parla, e lo potete leggere poi nel libro, di festeggiamenti molto solenni la chiesa dei Capuccini di via Veneto era addobbata con parati in oro e per tre giorni sono state effettuate celebrazioni liturgiche in onore del nuovo beato dell'ordine dei frati minori Capuccini Il quadro è attualmente custodito nella chiesa di via Veneto, Santa Maria Immacolata Concezione ed è una cappella segreta che custodisce il quadro Vi do una chicca, noi il giorno prima della canonizzazione in questa cappella abbiamo celebrato la Santa Messa e questa cappella è posta proprio sulla sinistra dell'altare in cui noi abbiamo celebrato l'Eucarestia il 14 ottobre quindi l'abbiamo visto, è un quadro bellissimo e il quadro ha dato il titolo al volume della dottoressa il santo Capuccino, poi la dottoressa ci spiegherà anche i dettagli e con questa occasione ringrazio anche il padre Rinaldo Cordovani che ha realizzato la presentazione del libro ed è colui che nel lavoro sul Roma ha aiutato la dottoressa e mi estendo anche il ringraziamento a tutta la provincia dei frati minori Capuccini di Roma L'ultimo inedito invece riguarda quattro bozzetti che sono stati consegnati a me personalmente nel mese di gennaio è una donazione che una famiglia di Bisignano ha fatto al convento di Acri sono quattro bozzetti realizzati in tempera commissionati dai frati Capuccini di Genova sempre in occasione della beatificazione di Angelo d'Acri sono stati commissionati nel 1826 orientativamente nel mese di agosto noi ne eravamo completamente all'oscuro e riportano questi quattro bozzetti che voi potete ritrovare poi intorno alla fine del libro eventi della vita del nostro Angelo d'Acri sono stati donati al convento e saranno poi esposti nel nostro museo quando vedremo la fine e la conclusione dei lavori del nostro museo l'autore di questi quadri attualmente è ignoto però noi ci siamo anche preposti ulteriori ricerche e ulteriori studi su questi bozzetti così come alla dottoressa questa sera diamo anche dato l'enorme interesse che ha suscitato questo quadro diamo anche mandato di continuare le ricerche sul nostro Angelo d'Acri Angelo d'Acri non finisce mai di stupirci perché ogni volta che ci mettiamo alla ricerca e ogni volta che iniziamo un'opera per lui si aprono tante strade si spalancano tante porte e quei lavori che sembrano assurdi quei lavori che sembrano complicati, insormontabili diventano di una facilità estrema la dottoressa ne ha fatto esperienza noi tutti ogni giorno nella nostra vita ne facciamo esperienza quindi questo è il proposito che noi vogliamo farci anche per l'avvenire chiunque di noi venisse a conoscenza di immagini, di bozzetti, di dipinti di tutto ciò che riguarda di statue come la statua che visiteremo poi a Maratea anche domenica qualsiasi cosa riguarda il nostro santo non esitate a darci riferimento di queste notizie perché rimangono delle notizie storiche di cui noi ci dobbiamo appropriare per diciamo anche diffondere il culto tutto questo serve non soltanto per avere notizie su Angelo D'Agri ma anche per la devozione e per il culto io mi fermo qui al momento do la parola alla dottoressa Giustina Cetta la quale ci illustrerà tutto il lavoro che ha compiuto e già da adesso dottoressa le dico grazie per tutto quello che ci dirà per come ce lo dirà e per la devozione e soprattutto per il grande entusiasmo che ha impiegato nel realizzare questo lavoro io ringrazio tutti stasera per essere qui per me è una grande emozione e vedere la basilica piena mi porta tanta gioia e ringrazio tutti quanti ringrazio padre Francesco che mi ha accompagnato in questo viaggio lungo e anche faticoso va bene così ringrazio don Gianbietro che è venuto stasera ad essere qui e sono contenta perché lei rappresenta pure un sacerdote che opera qui ad Acri e quindi è una cosa pure bella e importante io mi presento perché molti stasera mi hanno detto ma il tuo cognome è di Acri c'era un professore io non sono di Acri io abito a Rende e sono qui vicino ai frati come ha detto dono mio padre Francesco perché dal 2002 ho cercato di fare il recensimento dei santuari in Calabria e questa è una delle più belle basiliche minori che ci sono ma è anche un santuario e con i padri ho sempre avuto con i padri Cappuccini un ottimo rapporto e devo dire che da quando ho conosciuto da padre Giovanni in poi poi padre Pietro e oggi padre Francesco hanno cercato sempre di valorizzare questa figura di questo personaggio meraviglioso che è nato ed è qui custodito proprio il corpo questa ricerca parte nel 2014 perché in quel periodo padre Pietro e anche insieme ai padri Cappuccini stavano facendo un progetto anche di rilancio sulla figura di Sant'Angelo anche per farlo diventare santo perché è stato canonizzato come abbiamo detto prima il 9 dicembre del 1825 però per la canonizzazione ha dovuto lottare tanto è arrivata soltanto l'anno scorso eppure poteva diventarlo ancora prima perché il miracolo che ho trovato del 1796 è stato fatto praticamente pochi anni dopo la sua morte quindi già all'epoca siccome io l'ho trovato nell'archivio di Stato di Avellino ed è un atto notarile anche quello poteva essere utilizzato quello che troverete in questo libro soprattutto gli atti sono stati tradotti da me perché gli originali appunto sono del 700 poi ognuno può può usare una versione ben diversa dalla mia perché quando si traduce ad esempio io ho tradotto il miracolo di questo ragazzo che è andato un padre cappuccino a predicare ed è stato messo proprio un'immaginetta è definita così nella trascrizione però può essere anche un foglietto perché all'epoca non esistevano le immaginette di Sant'Angelo come adesso però c'erano gli incisori e quindi nei cappuccini siccome lui fu uno dei primi cappuccini ad essere beatificato infatti ancora oggi a Padre Pio c'è un quadro che viene raffigurato proprio Sant'Angelo e Padre Pio aveva le immaginette del nostro santo quindi diciamo che era una figura già all'epoca carismatica e questo libro è nato dal progetto di ritrovare e di pubblicare questo volume questo volume ma la cosa principale è proprio la copertina questo quadro perché appartiene al fondo edifici di culto di Roma del Ministero dell'Interno per avere l'autorizzazione a pubblicarlo è difficilissimo non è qualcosa di facile perché non solo abbiamo trovato a Padre Rinaldo della Curia Romana l'archivista a farci entrare in questa cappella segreta perché non è inserita in via Veneto nella chiesa centrale oppure nel loro museo ma è custoduto gelosamente hanno anche un altro quadro che raffigura Sant'Angelo ma è posto nel refettorio questo invece non è visitabile quindi oggi avere questo volume soltanto per la copertina si vede la figura del Beato e dopo del Santo però all'epoca fu fatto proprio per la beatificazione in uno stile è completamente diverso infatti viene definito il Santo Cappuccino o il Santo Angelo in gloria quindi quello che si vede non è la solita fotografia io sono la prima dopo molte biografie che ci sono state in tutti questi anni che non è mai stato pubblicato in nessuna in nessun libro quindi già avere questa figura è qualcosa di molto prezioso infatti nel momento che abbiamo ritrovato e ci sono state le varie autorizzazioni alla pubblicazione abbiamo deciso di fare un'opera che fosse per tutti accessibile perché poteva diventare anche un catalogo poteva diventare anche un'opera ben diversa ma soltanto per un gruppo di persone invece abbiamo cercato di dare anche uno stile divulgativo che fosse possibile averlo per tutti quanti all'interno poi della ricerca ci sono altre notizie inedite perché poi la ricerca grazie ai cappuccini che hanno i vari musei in Italia quindi da Milano da Roma da Genova si sono trovate delle immagini che non si sono mai viste non si sono mai viste che all'interno sono anche dei bozzetti perché poi questo della beatificazione furono proprio perché non sta ad Acri questo quadro perché all'epoca siccome la congregazione dei riti dei santi fu commissionato da qualcuno dei padri a questo grande pittore perché questo pittore che era di origine palermitano erano tre fratelli Vincenzo Antonio e Francesco ed erano molto importanti in quei periodi infatti facevano parte dell'Accademia prestigiosa di San Luca ma erano dei grandi artisti di merito infatti venivano definiti di merito non erano i soliti soci quindi i padri Cappuccini per commissionare un quadro tanto costoso che poi non era solo uno perché questo è quello del triduo della beatificazione però ad oggi non si trova l'Arazzo che era stato inserito proprio a San Pietro altri quattro quadri e una statua anche del Beato Angelo perché grazie alla traduzione che troverete qui dentro proprio dall'archivio di Roma dei padri Cappuccini c'è questa grande festa perché poi fu questo triduo dal 16-17 giugno 1826 e questo grande veramente processione di persone che andavano da Via Veneto Piazza Barberini Piazza di Spagna quindi non era un personaggio che non era conosciuto ma era molto amato infatti questo Francesco Manno poi si faceva aiutare da un incisore che si chiama appunto Moghetti questo qui che faceva l'incisore aveva una specie di rullo e vi faccio vedere questa immagine che invece è stata ma no no un attimo io faccio vedere l'immagine allora chi ha il libro a pagina 62 c'è la figura del Calvario di Sant'Angelo questa figura è stata pubblicata da altri storici prima di me però io ho ritrovato la sua provenienza che è proprio nell'istituto dei Cappuccini di Roma e questo faceva parte insieme a quello della copertina ai quadri della beatificazione quindi diciamo che tutto questo ha un suo una sua filo conduttore perché poi ritrovando anche queste immagini possiamo capire la grande devozione che ci fu proprio in quel periodo le immagini che seguono poi anche nei musei che ho trovato anche di Genova perché padre Angelo aveva un contatto molto forte infatti lì sono conservate le due lettere che sono solo firmate da padre Angelo e c'è questo bellissimo quadro che qui è in bianco e nero però potete vedere a pagina per indicarvi pure 73 e questo sappiamo oggi che è nella chiesa di Genova e poi c'è stata questa scoperta anche legata al convento di Genova di questi bozzetti che sono stati donati da una famiglia privata a padre Francesco come mai? perché i propri cappuccini non avendo delle immagini pagavano questi grandi pittori e c'era il modo proprio di far conoscere attraverso questi incisori queste immagini ad esempio io l'ultimo che ho trovato è quella della diocesi di Rovigo di Adria Rovigo e all'interno del vicariato custodiscono proprio un'immagine del santo cappuccino appunto all'epoca padre Angelo troverete poi all'interno delle figure in bianco e nero che delle foto del 1700 anche del 1800 quindi c'è stato questo ritrovamento di immagini preziosi per Acri però Acri deve conoscere chi è stato realmente questo beato cioè non si può amare il santo se non si conosce la sua storia i primi due capitoli il primo vabbè è sulla sua vita ma il secondo è proprio l'apostolo della Calabria e ho tracciato i vari comuni dove lui perché prima di me l'aveva fatto padre Leone che è stato l'archivista poi anche dei padri cappuccini e proprio con questo studio lui lo chiama itinerante senza sosta perché 38 anni sono tanti cioè lui è iniziato nel 1702 in un modo non molto felice e a sto Giorgio Almanese in più lui dopo decise di predicare anche nel suo dialetto nella vostra lingua non solo per farsi capire da tutti però per essere anche lui più sicuro fino ad arrivare proprio alla sua morte perché lui l'ultimo paese prima di ritornare ad Acre e morire è stato proprio Cetraro quindi in questo secondo capitolo si può vedere tutto l'itinerario però si può comprendere anche la fatica fisica perché ad oggi ci sono ancora dei vuoti però attraverso questo cammino ad esempio si è scoperto che a Seminara conservano l'unico autoritratto che è stato fatto realizzato nel 1729 quando padre Angelo era lì in visita nel secondo viaggio a Reggio Calabria e fu realizzato dal famoso pittore Antonio Cilea e questo si ritrova a pagina ve lo dico così lo potete vedere insieme a me 40 perché si trova nel tesoro della Basilica e non è qui ad Acre anche qui è un mistero perché questo quadro è stato trafugato e dopo 30 anni è stato ritrovato infatti le sue condizioni non sono bellissime però si può vedere un po' le caratteristiche che poi ce le spiega anche padre Leone nella sua fisonomia quanto era alto com'era di aspetto la sua costituzione abbastanza anche robusta però tutte queste immagini ci portano ancora più vicini proprio a questo santo cappuccino il viaggio si conclude con Maratea Maratea dove proprio Sant'Angelo lui andò a predicare tra predica San Viaggio tra quaresimali e missioni per sette volte è stato molto difficile visitare questa statua perché la devozione anche dei padri a Maratea prima era molto forte ma sono un po' di anni che non ho e quindi domenica si ritornerà e sarà veramente una bella occasione però Sant'Angelo era così importante poi lo potete vedere che quando lui attraversava Maratea gli tagliavano il vestito a un certo punto c'è scritto a una parte della predica che dice adesso basta perché è nuovo il mio vestito lasciatevi stare per far capire anche com'era anche di un grande umorismo e di una grande ironia Sant'Angelo Maratea è rimasta l'unica statua conservata ed è conservata nella chiesa di Sant'Antonio da Padova dei cappuccini che non esistono più perché questa chiesa apportiene alla sovrintendenza di potenze e viene aperta esclusivamente il 13 di giugno perché Maratea ha 33 chiese e vi è un unico collaboratore praticamente sono saranno uno o due condonato oppure amministratori come vengono definiti loro comunque questa statua grazie all'autorizzazione della diocesi di Tursi Lago Negro e anche alla sovrintendenza di potenza siamo riusciti non solo a metterlo sul volume e la troverete a pagina nella sezione nelle tavole a colori subito dopo ed è a pagina 109 e anche questo è un'altra occasione per riscoprire un'altra statua che rappresenta proprio Sant'Angelo quindi chi ha la possibilità di leggere tutti quelli di Acre dovrebbero scoprire riscoprire la figura anche perché si legge in un modo molto penso molto anche scorrevole diciamo però bisogna anche amare riscoprire questo Santo Cappuccino io penso che ancora c'è tanto da scoprire perché lui in questi 38 anni di prediche è stato in tanti luoghi ancora tante cose a noi io poi a un certo punto ho dovuto dare un freno perché dopo 4 anni di lavorazione non ce la facevamo più nel senso che abbiamo scoperto quindi già per adesso siamo ben felici ma soprattutto sono ben felice di aver riportato e far conoscere a tutti quanti questo Santo Cappuccino che prima era qualcosa di molto segreto infatti è custodito nella cappella segreta quindi io ringrazio il Padre Francesco che ancora dopo la canonizzazione continua ad appoggiare le idee le promozioni su Sant'Angelo di far conoscere sempre di più non solo voi ad Acri ma tutta la Calabria e far diventare questa basilica un punto della regione per i tanti fedeli e per venire tutti ad Acri a visitare il corpo di Sant'Angelo e anche il fatto di da domani iniziamo una serie di incontri anche a Cetraro a Belvedere a Maratea tutto questo è per far dire il Santo è ad Acri bisogna riscoprire questa basilica che ripeto è una delle più belle della Calabria e bisogna anche riscoprire questo grande santo perché abbiamo un grande santo perché lui quando era in vita era è stato veramente senza fatica si può dire perché poi alla fine è andato in giro per 38 anni rimaneva qui soltanto i mesi estivi praticamente e poi era sempre in giro quindi è uno spirito è anche uno spunto per noi che siamo sui devoti ad andare avanti e a conoscere sempre di più questa figura straordinaria io ringrazio il Santo che mi ha permesso di essere qui che mi ha illuminato in questa ricerca perché in tante situazioni di difficoltà di angoscia ho cercato sempre poi di ritrovare il sorriso di andare avanti perché fare questo tipo di ricerca non è facile perché un conto è scrivere un romanzo e quindi si sa l'inizio la fine il contenuto di cosa va a parlare però scoprire e cercare di mettere e di creare un filo conduttore è difficilissimo perché poi è tanto materiale ritrovato in luoghi lontani dalla mia città perché fare dei viaggi a Milano a Genova a Roma a Maratea ad Avellino e anche incontrare tanta gente disponibile ad aprire le proprie case perché non è facile trovare perché sono diocesi diverse anche il miracolo di Sant'Andrea di Conza fa parte della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi come Maratea fa parte di Tursi Lago Negro prima anni fa faceva parte di Cassano però dopo fece parte di Policastro e poi adesso è Tursi Lago Negro quindi vorrei dire sono tante realtà e ringrazio anche tutti i cappuccini d'Italia che hanno avuto questa collaborazione perché poi è stato una specie di catena di aiuto a Giustina aiutiamo a Giustina aiutiamo a Giustina a trovare a ritrovare ed è bello trovare anche oggi la basilica piena e vi ringrazio per questo e ringrazio soprattutto tutte le persone che anche col poco con tanto siamo riusciti a realizzare questa pubblicazione e sono contenta grazie domani sera presenteremo il volume a Cetraro sabato sera lo presenteremo a Belvedere domenica sera subito dopo la celebrazione eucaristica lo presenteremo a Maratea l'otto maggio il libro sarà presentato a Roma dalla dottoressi in occasione di questa manifestazione che si farà a Roma l'otto maggio padre Rinaldo mettendosi d'accordo col ministero dell'interno farà vedere il quadro a chi presente quindi lo prenderà dalla cappella segreta perché questa cappella c'è prima di passare c'è la tomba di San Giustino questo diciamo questi padri sono sempre stati abbastanza resti a far vedere questo quadro così importante per loro però io all'epoca entrai perché proprio per il nome Giustina Giustino fu collegato lui disse ti manda San Giustino quindi ho detto è la prima volta di essere contenta di portare anche questo nome mi ha permesso anche di censirlo quindi per tutto coloro così che possono ammirare questo quadro l'otto maggio chi ha delle persone anche di Acri possono venirlo a vedere perché è nella sala multimediale quindi è anche una cosa in più per farlo vedere dal vivo scusate quindi avremo queste presentazioni poi penso che se ne aggiungeranno altre sul territorio di Calabria noi stiamo pensando di fare una capatina Catanzaro la città di Cosenza ci spingeremo verso Reggio Calabria insomma stiamo cercando di fare di fare un'itineranza per tutta la Calabria così come durante la canonizzazione abbiamo pensato bene di invitare tutti i vescovi della Calabria perché conoscessero la figura di Sant'Angelo e oggi stiamo avendo risposte da parte dei vescovi che nelle di oggi si stanno iniziando ad invitarci per portare le reliquie così con la presentazione del volume e quindi con la monografia con le altre bibliografie che noi abbiamo di Sant'Angelo e le sue biografie e i suoi testi stiamo cercando sempre di più di diffondere la conoscenza del Santo che è già di per sé ha una buona base di conoscenza anche nella Calabria e soprattutto nei paesi limitrofi ad Acre però dobbiamo spingerci oltre dobbiamo andare oltre i confini anche questa uscita verso Maratea ci porta ad andare oltre i nostri confini questo lo dobbiamo fare tutti nessuno è esente e soprattutto diceva bene la dottoressa ci dobbiamo documentare perché io quello che sto scoprendo è che molto spesso tutti i pellegrini che stanno venendo a fare visita conoscono più cose di noi del nostro Santo perché se noi dovessimo chiedere ad una crese qualcosa sulla vita di Sant'Angelo eccetto le notizie proprio base le notizie più importanti forse in profondità la spiritualità il suo modo di essere il suo modo di fare il frate di essere sacerdote la sua predicazione appieno noi non la conosciamo allora iniziamo questo lavoro che diventa un lavoro innanzitutto per la nostra anima perché diventa spirituale diciamo immagazzinare tutte le notizie che riguardano il nostro Santo poi ci mettiamo sulla scia della santità e soprattutto andiamo a scoprire la grande opera di evangelizzazione che ha fatto uno di voi che ha fatto una persona che è partito da Acri ed ha annunciato il nome di Gesù per 38 anni 1702 1739 a me verrebbe da dire un predicatore infaticabile instancabile Angelo d'Acri che non si è mai risparmiato di portare il nome di Acri innanzitutto di portare il nome di Gesù ovunque si è presentato perché lui ha sempre indicato Gesù crocifisso un Gesù risorto che cammina con noi che ci guida soprattutto che si fa nostro compagno di viaggio allora di questo noi dobbiamo essere orgogliosi dobbiamo essere orgogliosi di avere un concittadino santo e dobbiamo essere orgogliosi che tanta gente guarda e cerca di vivere la spiritualità di Angelo d'Acri non sono i numeri che ci devono interessare a noi interessa la qualità quando noi diamo una qualità spirituale e le persone che vengono qui incontrano Angelo d'Acri si innamorano della sua spiritualità quello è l'obiettivo pieno che abbiamo raggiunto fosse anche una persona perché la conversione noi non sappiamo come avviene di una persona vi voglio raccontare questo episodio che non ho mai raccontato quando c'è stata Rai Uno qui presente sono venuti dei giovani che erano coloro i quali erano addetti per l'allestimento delle telecamere il montaggio delle diciamo di tutte le transenne che servivano delle alzate e c'è stato un giovane che si è avvicinato all'urna di Sant'Angelo il secondo giorno è venuto e mi ha detto padre Francesco io mi vorrei confessare e si è confessato questo giovane era la prima volta nella sua vita che si accostava al sacramento della riconciliazione e aveva 26 anni perché ha sentito davanti all'urna il cuore che gli si stringeva e la necessità di confessare di riconciliarsi con il Signore questa è la santità la santità non è altro Angelo d'Acri anche per una persona che viene e scopre Gesù Cristo ancora sta predicando ancora sta annunciando e adesso do la parola a Don Giampiero che trae le conclusioni anche se credo che dopo tutte queste cose belle che si sono dette non mi rimane che di nuovo portarvi i saluti a lei e a tutti del padre arcivescovo che purtroppo come abbiamo detto per un improvviso impegno non ha potuto essere presente mentre ascoltavo la dottoressa pensavo al ci ha regalato un gammino che ha fatto perché scrivere è un gammino non si cammina con i piedi ma si cammina con il cuore con l'intelligenza e pensavo ai passi di Angelo d'Acri mentre raggiungeva queste queste zone dove andava a predicare e mi veniva in mente ciò che leggiamo nella Bibbia beati i passi di coloro che sono portatori di pace la santità è l'uomo di pace non delle paci della pace e Angelo d'Acri è santo Acri sta vivendo un tempo di grazia Angelo d'Acri Francesco Maria Greco altre tante figure belle di quella santità fatta di quotidiano Angelo d'Acri anche per la nostra diocesi è un esempio è stata una gioia la sua canonizzazione non solo Acri ma tutta la diocesi tutta la Calabria c'è stato un vermento c'è stato quasi un respiro nuovo c'è stata la capacità di noi uomini ancora di guardare il cielo perché la santità è quando il cielo sulla terra sa produrre l'umanità Angelo d'Acri ci parla di questa umanità dell'umanità toccata da Dio Angelo d'Acri è stato un predicatore lei diceva ha iniziato sbagliando poi ha capito che doveva iniziare amando con un linguaggio fattibile un linguaggio che attacca subito fa comunione è parlamento di aletto e Angelo d'Acri riesce a raggiungere il cuore dell'altro che cos'è la santità tante volte noi pensiamo che la santità è la perfezione sì è la perfezione dell'uomo è l'umanità è l'umanità perfetta cioè capace di lasciarsi abitare da Dio Angelo d'Acri ha questa capacità e oggi Angelo ci parla è vero converte i cuori converte ancora noi sacerdoti che veniamo qui anche tante volte in silenzio la mattina a pregarlo per il nostro ministero aiuta la nostra diocesi il suo cammino ma Angelo d'Acri ancora continua con i suoi frati questa bellezza di Dio e qui vorrei ringraziarli frati qui ci vuole un grande applauso perché con il loro quotidiano impegno non solo sono una porta aperta non solo sono una strada da percorrere ma sono un cuore da incontrare e volti ogni giorno da vivere grazie per questo suo cammino che ce ne ha fatto dono posso dirle una cosa mi sembrava una ricamatrice ci ha fatto vedere i ricami più belli del suo lavoro le notti inzogne le sue paure anche anche l'arrivare oggi dice chi vedrò e poi le devo dire una cosa poche volte la basilica si è riempita così sarà stata la preghiera o di tutti no perché doveva essere una cosa bella allora ecco angelo d'acri la guidi la sorrega anche a nome dell'arcivescovo le dico questo anche se non è presente sicuramente poi vi sentirete e le farà sentire tutta la sua vicinanza per questa bella testimonianza avevo scritto una cosa bella e me la sono dimenticata gli anni vogliono dire no e non la trovo più la cosa bella è che possa questo lavoro raggiungerci raggiungerci e nei momenti difficili ecco ognuno di noi possa avere la bellezza del suo lavoro grazie signore la benedica grazie a tutti grazie a tutti di cuore veramente sono contento che abbiate c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda alla dottoressa sul testo sul libro penso che è stata molto chiara la dottoressa quindi insomma poi magari ti incontreremo un'altra volta dopo averlo letto così lo leggiamo tutto sì noi siamo qui se qualcuno vuole fare qualche intervento ringrazio il sacerdote che mi ha scritto Don Maurizio Don Maurizio Bloise che è venuto dall'Aino Borgo dal santuario delle cappelle si può avvicinare perché Sant'Angelo è sempre stato molto vicino alla diocesi di Cassano all'Oionio e noi ci siamo ritrovati lunedì scorso col vescovo Savino e ho piacere che venga qui anche per un breve saluto perché viene da lontano è il rettore dell'unico santuario che è considerato l'unico sacromonte della Calabria e della piccola Gerusalemme eccolo qua è stato molto caro venire perché ha fatto tanti chilometri almeno per il grande legame che c'è stato con Sant'Angelo con Cassano infatti ultimamente siamo andati a vedere la statua che nel 2014 è stata posta proprio dai padri Cappuccini e che Papa Francesco ha benedetto nella sua visita quando il 21 giugno 2014 appunto quindi io ho grande piacere perché è un altro rettore di un santuario che si avvicina al nostro santo quindi una cosa bella grazie sarò sarò anche io telegrafico ringraziando intanto per l'invito che mi è stato rivolto a me caro Sant'Angelo d'Acri perché nella mia parrocchia di origine Cassano si è alla missionarietà porto anche i saluti di Monsignor Savino e Monsignor Ren il parroco di San Francesco d'Assisi parrocchie per motivi di salute e così via ha voluto Silvio Ren ecco è molto bello allora questo viaggio fare dei chilometri pensavo al santo e pensavo a me con la macchina che grande abisso lui andava a piedi ecco io invece dovrei imitarlo per per questioni anche corporee a parte le battute anche io non ho ancora presso di mistichezza con il testo però la testimonianza la presenza è in un momento favorevole anche la settimana mi permetto di aggiungere a quello che già si diceva sulla santità sulla gaudete ed exultate di Papa Francesco domenica scorsa la domenica del buon e bel pastore penso che ci sta proprio a pennello come si suol dire in gergo complimenti ancora per questa opera Giustina e tutte le altre che vorrei ancora regalarci trascinando cieco in questi viaggi di santità di di vissuto di studio di ricerca di conoscenza un grazie ancora anche per la parola data mi grazie noi concludiamo qui questa questo intervento davvero grazie di cuore a coloro i quali sono intervenuti e a nome di tutti quelli che siamo presenti facciamo un omaggio floreale alla dottoressa per il lavoro che ha fatto per noi dottoressa questi sono per te da parte di tutti noi per dirti grazie sei il fiore tra i fiori grazie e grazie ancora per tutto quello che continuerai a fare per noi buona serata a tutti e salutate le vostre famiglie grazie buona serata grazie